Floridi a cocaina e celata nel Reggiseno hanno arrestato una donna e un uomo di 43 e 46 anni. A Floridi dei Carabinieri della sezione Radio Mobile di Siracusa hanno arrestato un uomo e una donna rispettivamente di 46 e 43 anni, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo alla circolazione statale, la coppia a bordo di un motociclo, alla vista dei Carabinieri, ha svoltato repentinamente e ha tentato di allontanarsi, ma la manovra ha insospettito i militari che hanno prontamente raggiunto e bloccato il veicolo. A seguito di perquisizione personale e veicolare, la donna è stata trovata in possesso di un involucro contenente circa 20 grammi di cocaina che occultava nel Reggiseno. Lo stupefacente è stato sequestrato per il successivo esame di laboratorio. Dopo le formalità di diritto, gli arrestanti sono stati posti ai domiciliari presso le proprie abitazioni come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea.